La radio ha appena compiuto cent'anni ma continua a dimostrarsi una forza insostituibile nel panorama mediatico. Durante l'evento Radio Plus Next 100, organizzato da FCPSO Radio presso il Museo Nazionale Leonardo da Vinci di Milano, si è celebrata l'evoluzione di questo mezzo sempre attuale, evidenziando il suo potenziale nelle strategie pubblicitarie delle aziende. Con 35,3 milioni di ascoltatori nel giorno medio e una penetrazione significativa nel target 25 e 54 anni, la radio non solo intrattiene ma rende. Le campagne pubblicitarie radiofoniche infatti continuano a generare vendite rilevanti in tutti i settori merceologici, con rapporti di conversione molto superiori rispetto al peso della radio nel media mix. La radio è un mezzo imprescindibile, oggi ne abbiamo visti 10, che sono i 10 motivi fondamentali per cui bisognerebbe utilizzare la radio nelle campagne. La radio è stato un mezzo straordinario per quanto riguarda anche la possibilità di innovare e di evolversi nel tempo, utilizzando tutti quelli che sono stati gli strumenti che si sono succeduti nel tempo. È l'unico mezzo di comunicazione estremamente cross-mediale. Ne possiamo fruire con lo smartphone, con il pc, con il digitale terrestre, con i social e anche con gli eventi. Una delle forze più attuali della radio è l'impatto durante l'ascolto in auto. Una ricerca presentata all'evento e condotta in collaborazione con il Politecnico di Milano ha rivelato che la creatività associata a un contenuto di qualità cattura l'attenzione in modo molto più efficace rispetto ad altre modalità di ascolto, specialmente in un contesto di guida. Abbiamo voluto ricostruire l'ascolto della radio all'interno di questo abitacolo dove ovviamente la radio è molto ascoltata. Un messaggio pubblicitario inserito in un contesto di guida e inserito in un contenuto di qualità ha ovviamente un livello d'attenzione estremamente più alto rispetto invece all'inserimento in altre dinamiche dove il contenuto si impoverisce e viene meno. La radio si conferma dunque uno strumento potente e versatile, capace di connettere i brand al loro pubblico in modi unici. Anche le migliori campagne dell'anno premiate durante l'evento sono state scelte per la loro capacità di stimolare l'immaginazione attraverso un ascolto attivo, rendendo lo spot non solo memorabile ma anche efficace. Abbiamo premiato quelli che sono gli spot che sono innovativi, hanno una splendida creatività e anche un'ottima orecchiabilità. Lo spot pubblicitario deve essere creativo, deve essere coinvolgente e deve accompagnare in maniera naturale nel contesto in cui lo si sta ascoltando. Il viaggio del radio insomma non finisce qui, nonostante l'età continua a evolversi adattandosi ai nuovi bisogni del pubblico e delle aziende, dimostrando di essere ancora oggi un mezzo chiave per la pubblicità.